A posto, ecco fanno il loro ingresso in campo, la Virtus Castelfrentano e Squali Tescara Sud per la terza giornata di andata del campionato di seconda categoria, Girone E. Adesso ci sarà un minuto di raccoglimento della scomparsa della nonna di Mister, Nicola Di Cambri della scuola calcio, dovete fare un minuto di raccoglimento ragazzi, state i piedi, si si, ecco si salutano, si scampiano, dopo ci sarà il sorteggio, la scelta del campo, state qua ancora ragazzi, mi fate un minuto di raccoglimento e dopo vi sganciate, si si, ecco schieratevi, si si ecco, uno che si mette anche con la squadra avversaria, su, ecco c'è un minuto di raccoglimento adesso.